Ho cambiato il titolo all'ultimo momento, ma vi parlerò lo stesso di quel che avevo progettato, del rapporto cioè di Maria con la morte. Che cosa c'entri la morte con la danza? Ve lo voglio spiegare subito. Mi sono messo a leggere in questi giorni un libro sulla Madonna, scritto da una nota docente di antropologia, e sono riuscito ad andare avanti, quasi fino al termine, senza trubarmi granché. Quando, proprio nelle ultimissime pagine, ho colto una frase che mi è sembrata pesante come un'ingiuria. Maria non potrà mai danzare. Oddio, nel libro c'è di peggio, perché vengono scardinate le verità più salde che i credenti hanno sempre professato sul conto della Madonna. Però, mentre non mi ha scandalizzato più che tanto, il sorriso di sufficienza sul suo immacolato concepimento o sulla sua virginale maternità, mi ha dato invece un fastidio incredibile l'insinuazione che lei non sapesse danzare. Mi è parso, insomma, un enorme sacrilegio, un oltraggio alla sua umanità, un delitto contro ciò che ce la rende più cara, l'irresistibile dolcezza comune alle figlie di Eva. Che cosa si nasconde, infatti, sotto questa frase, se non l'affermazione che Maria non ha avuto un corpo come le altre donne, e che la sua era una femminilità, per modo di dire, o comunque così disincarnata ed evanescente, da renderle impossibile prolungarsi gestuale nel vortice della danza? E non vi sembra una bestemmia il solo aspetto che Maria fosse una creatura svigorita di passioni, povera di slanci, priva di calore umano, macerata solo da digiuni e astinenze, genuflessa sugli specchi frigidi delle contemplazioni, incapace di quegli struggimenti interiori che esplodono appunto nella grazia del canto e nella dilatazione corporea del ritmo. Che Maria fosse esperta di danza sta a dircelo una parola spia presente nel suo vocabolario, esultare. Viene dal latino ex saltare, che significa appunto saltellare qua e là, sicché quando lei esclama il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, non solo tradisce la sua straordinaria competenza musicale, ma ci fa sospettare che il Magnificat deve averlo cantato danzando. Qualcuno forse si chiederà perché mai mi sia tanto ostinato a sottolineare questa particolare attitudine artistica di Maria. La risposta è semplice, non può sostenere la morte chi non sa sostenere la danza. Dire perciò che Maria non potrà mai danzare significa riternerla estranea a ciò che morte e danza hanno in comune, l'affanno del respiro, lo spasimo dell'agonia, la contrazione dolorosa del corpo. Significa svuotare di valore salvifico la sofferenza della Madonna e ridurre il mistero dell'addolorata, nonostante le sette spade confitte nel cuore, a uno spettacolo appariscente allestito da Dio per funzionali ragioni scenografiche. Significa considerarla partner impassibile di un altro esperto oppure lui di danza, che però Isaia chiama uomo dei dolori che ben conosce il patire. Significa insomma radiare Maria dallo scenario del venerdì santo, sul quale recita da protagonista accanto a Gesù il dramma dell'umana redenzione, giunto ormai alle ultime battute. Santa Maria, donna che ben conosci la danza, ma anche donna che ben conosci il patire, intenta già sotto la croce a come trasporre nei ritmi della festa i rantoli di tuo figlio. Aiutaci a comprendere che il dolore non è l'ultima spiaggia dell'uomo, è solo il vestibolo obbligato da cui si passa per deporre i bagagli, non si danza col guardaroba in mano. Noi non osiamo chiederti né il dono dell'anestesia né l'esenzione dalle tasse dell'amarezza. Ti preghiamo solo che nel momento della prova ci preservi dal pianto dei disperati. Santa Maria, donna che ben conosci la danza, se ti imploriamo di starci vicino nell'ora della nostra morte corporale è perché sappiamo che tu la morte l'hai sperimentata davvero, non tanto quella tua, quella l'hai vissuta per poco poiché essa ha fermato le tue membra per pochi attimi appena, prima dell'ultimo leggerissimo slancio verso il cielo, ma la morte assurda violenta di tuo figlio. Ti supplichiamo rinnova per noi nell'attimo supremo la tenerezza che osasti per Gesù, quando da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece gran buio su tutta la terra. In quelle ore tenebrose, disturbate solo dai rantoli del condannato, forse danzasti attorno alla croce i tuoi lamenti di madre, implorando il ritorno del sole. Ebbene, donna dell'eclisse totale, ripeti la danza attorno alle croci dei tuoi figli. Se ci sei tu, la luce non tarderà a spuntare, e anche il patibolo più tragico fiorirà come un albero in primavera. Santa Maria, donna che ben conosci la danza, facci capire che la festa è l'ultima vocazione dell'uomo. Accresci pertanto le nostre riserve di coraggio, raddoppia le nostre provviste di amore. Alimentaci le lampade della speranza, e fa che nelle frequenti carestie di felicità, che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere con fede colui che verrà finalmente a mutare il lamento in danza e la veste di sacco in abito di gioia.